Siamo qui con il mister della Putelana, una partita che tralasciando quello che è successo era un po' combattuta nel primo tempo e poi nel secondo tempo al di là di quello che è successo. La partita in queste categorie non ha storia, noi accettiamo il risultato, abbiamo perso 3 a 1 ma non ci sono problemi, sono comportamenti riguardosi, rispettosi e scostumati di gente che sta fuori e che sono educatori, quello è grave perché noi in una rosa che abbiamo noi di 22 ragazzi abbiamo 3 over e poi abbiamo tutti i ragazzi, quindi rischiamo quando si va fuori casa e questo non deve assolutamente succedere. Perché oggi abbiamo visto uno spettacolo indecoroso per quello che riguarda me che sono 30 anni che sono su questi campi, non avevo mai visto niente di simile, poi si rischia veramente di non andare a casa e questo non è giusto, il risultato va accettato perché loro giustamente hanno meritato, non abbiamo niente e nulla da dire, loro hanno ampiamente meritato ma sono i comportamenti al di fuori che non possiamo tollerare, noi siamo educatori, dobbiamo essere calmi, tranquilli e questo sicuramente non è il comportamento perché io penso che secondo i miei pareri il lacca meno fuori casa con questa gente addetta non può andare da nessuna parte. La squadra va a dare un applauso e tutto perché i giocatori comportati correttamente, ma gli ha detto ai lavori, lasciamo stare. Comunque dopo quello lì che era successo, dopo anche il gol, la squadra ha risposto seppur in 9, erano riusciti pure a trovare il gol del Parigi, quindi comunque la mentalità e il carattere era quella lì giusta di quella squadra che era entrata. La mentalità, noi ragazzi sono giovani, sono pure bravi, però non reggono il brutto di questa categoria, questa è una categoria dove il piede si mette sempre e quindi a noi sono bravi giocatori ma affine a se stessi, perché poi il martedì, il mercoledì, tutti bravi, a domenica si mette il piede perché sono categorie dove si deve combattere e poi esce il fattore tecnico, invece loro non fanno esce il fattore tecnico e poi quello che rimane pure di brutto e che riguarda pure noi e il fatto è che questi ragazzi oggi non contano fino ai 10. A uno subito gli salta il cervello, subito stanno sempre pronti e quindi sta diventando veramente dischioso. O sono io che so il ritardo su queste cose ma io penso che questo non ci appartiene più. Ora dopo questa sconfitta, mi scusi, testa alla prossima, che cosa chiede? Chiede qualcosa anche a riguardo della società per il calciomercato? Ma non è una questione del calciomercato, noi abbiamo i migliori giovani della categoria, non è una cosa che dobbiamo richiedere, però questa sconfitta non è tanto pericolosa ma solo nelle conseguenze ci portiamo due o tre squalificati, due o tre infortunati perché poi se vogliamo c'è una partita tecnica, non è stata più una guerra e via di seguito su ogni palla e non contrasto perché poi quello che vogliamo dire vorrei dire a loro gli albiti sono giovani come i nostri ragazzi, quindi possono sbagliare ma noi sicuramente non gli abbiamo dato una mano e un buon insegnamento, secondo il mio parerio. Grazie mille.